Al termine dei primi 45 minuti è 0-0, risultato che comunque ci può andare bene perché nel caso in cui dovessimo arrivare al novantesimo con questo risultato l'Italia passa agli ottavi di finale del Mondiale. L'analisi del primo tempo, abbiamo fatto un solo tiro in porta, calcio di punizione di Pirlo e poi basta, mentre Buffon è stato miracoloso in due circostanze, quindi grande Buffon, bene Verrati che ha dato un saggio delle sue qualità, delle sue capacità tecniche, Benino-Pirlo marcato stretto e quindi non hanno avuto possibilità di innescare le punte. Immobile e Balotelli sono stati serviti poco e male e non hanno combinato nulla di trascendentale. La difesa ha tenuto salvo, come ho detto prima, in quell'occasione, doppia occasione capitata all'Uruguay, lì è stato decisivo Buffon. Forza Azzurri, forza Italia, dai ancora 45 minuti di sofferenza e ricordatevi, col cuore si vince e andiamo ragazzi!